e quindi salve a tutti ragazzi bentorni su beyond gamers oggi siamo qui con una pranzo con che non è un vero a pranzo con infatti questa volta non è la rubrica preferita di bambini di nessuno perché è una rubrica a caso è sempre una pranzo con però è un a merenda a merenda con beyond gamers perché sono le quattro infatti come vedete non siamo in abiti nell'outfit classico del canale ormai ormai è quello l'outfit per cui siamo riconosciuti di conseguenza facciamo solo la reaction al panino perché senza dare notizie e facendovi vedere due acquisti uno è il regalo di natale di nicolas che è arrivato adesso e una è una cosa che ho comprato io per me che è arrivata adesso che è arrivata adesso contemporaneamente nel stesso momento tra l'altro non ci saranno notizie però è stato pare che il prossimo call of duty modern warfare 4 sarà e sarà senza campagna ma includerà in realtà cioè non avrà una campagna nuova ma la sua campagna ma quella di modern warfare 2 e forse anche 3 perché con le mappe online sempre del 2 del 3 poi però nicolas giustamente va a vedere nel live streaming chi è che domina e c'è fortnite che è tipo il fantastiliardo di persone in più che guardano o no? beh sì non ti vedo molto proprio in cuo oggi ieri ok guardando un po' su youtube ho scritto quanto bella è sta giacca cazzo ho scritto kingdom earth 3 ma non ma nicolas non puoi aspetta ho scritto kingdom earth 3 perché volevo rivedermi trailer vecchi perché noi cioè io o meno no anche tu quando manca poco andiamo a vedersi tutti i trailer e allora volevo vedermi i primi trailer che sono usciti io ho visto quindi per la tempo le passi tutto al prossimo sì certo scrollando il filellino no scrollando cosa hai visto nicolas? cosa ti sei spoilerato dai no non sono spoilerato niente però c'è già gente che sta caricando allora uno ho caricato tutta l'opening ho scritto unlaced quella cosa e non sei contento? no uno che stava caricando un gameplay iniziale e allora si spegne mi piace questa cosa anche a me non mi piace abbiamo perso la merenda abbiamo perso il la cena la cena ma io devo mangiare dopo ma chi? eh domani si lavora non so voi che ci seguite ma di quanti che studio non sono quelli che ci guardano? sì? che lavoro assai io te e Gianni ma chi ne sai che lavoro? che studio non so ho visto le mie analytics e tutto quanto è età non ho mai guardato allora prima che nicolas sbusta vi faccio vedere gli acquisti allora questo qui è il mio acquisto che non si vedrà mai ma è una cioccorana in silicone della noble collection ed è veramente bella dentro c'è anche la figurina di Silente in là mi incasta lì che si muove molto molto bella si toccava dritta nella mia collezione mentre il regalo di nicolas direttamente dalla playstation 3 da quell'epoca lì è la fantastica stupefacente guida di kingdom hearts 1.5 che io pensavo fosse una guida e invece era bella rigida ma romperla ho fatto così anche quando ho arrivato a casa per sentire un 3 la rigida basta possiamo mangiare beh ma finché mangiamo le patate non serve che filmo le mangiamo sempre metà del video è sempre noi che mangiamo le patate e basta ecco una volta che nico ha spazzato le patatine e io mi sono messo la serviettina io direi che possiamo assaggiare questo smoky prima di farlo vorrei fare una cosa proprio questo tipo di pane a me questa luce incandescente questo pane mi garba solo alla vista cos'ha questo? ricordami scamorza e senape scamorza e senape delicata assaggino? il pomodoro certo per se riesco a prendere la mano adesso un olor vai vai fortuna che ho la sua vita è proprio scivolata così allora scusate ci pare che il pomodoro rovina tutto e sono felice che sia caduto ora inizia il vero pagno la carne è paro paro a quella del tono seduto il che non può essere sfumbe adesso allora col pomodoro ti dico sembra un po' più non ti incischi beh io ho provato senza pomodoro prima è meglio? no è un po' più impastoso invece adesso sembra più completo ti consiglio di pulirsi la barba è tutto approcci è da Beyond Gamers è tutto noi vi salutiamo ci vediamo la prossima sempre qui a merenda pranzo cena spuntino colazione come Beyond Gamers di mezzanotte anche spuntino quando mai al venerdì è il venerdì è il sabato ciao basta fine cosa è un po' più Grazie a tutti.